Per prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tussi Kevales, il drammatico lutto, addio ad uno dei volti più amati. Tragico lutto nel mondo della televisione, è morto poco fa. Con la sua musica illuminava le strade del centro storico. È morto Christian Bollaro, uno degli ultimi musicisti posteggiatori si è spento a 45 anni. A fine dicembre era stato ricoverato in ospedale per un problema di salute. Riscosse un buon successo nella trasmissione televisiva Mediaset. Tussi Kevales nel 2015, con la canzone È meglio o cane c'è tu. I funerali si terranno oggi, lunedì 26 febbraio nella chiesa di San Francesco a Vietri sul mare, la città dove era nato. Tutto quello che ho imparato l'ho imparato rubando a chi questo mestiere lo fa con maestria. Sono un'autodidatta, non ho mai preso lezioni, così si presentava Vollaro su Facebook. In tanti in queste ore stanno affidando ai social il proprio ricordo di Christian. Sempre nel mio cuore, sempre nei nostri cuori. La tua voce, i tuoi sogni, la tua passione, il centro storico non sarà mai più come prima senza di te. Scrive Alan De Luca Grazie a tutti.